Tanti dati positivi per i mercati finanziari e per l'economia degli Stati Uniti. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Vi faccio vedere quelli che sono i dati usciti oggi, che era una giornata molto importante. E tra le altre cose, dove vedete il dato rosso, quello dell'IPC, cioè il tasco di inflazione a livello europeo, è positivo perché è minore delle attezze. E dove vedete questi verdi sono tutti positivi perché l'economia americana va a gonpie vele. Nonostante il rialzo dei tassi, alle 19.30 nella giornata di oggi parlerà Powell e dirà un po' quello che vuole fare la Fed e quant'altro e probabilmente potrebbe anche dare delle indicazioni sul futuro della politica monetaria degli Stati Uniti. I mercati attendono probabilmente anche di sapere se effettivamente la Fed continuerà ad alzare i tassi di interesse in maniera estremamente importante come ha fatto finora. Guardiamo per esempio quelle che sono le previsioni di quello che pensano gli operatori istituzionali proprio di questo rialzo che dovrà avvenire a dicembre prossimo, insomma, dei tassi di interesse. Ecco il dato in questione, ragazzi. Fra 14 giorni avremo la comunicazione del meeting del FONC che dirà appunto i tassi di interesse se verranno ulteriormente alzati sicuramente sì, questo si sa. La questione è quanto. E per la prima volta, ragazzi, vedete, la candelona di probabilità, il 70%, non sta intorno a un rialzo di 0,75 rispetto agli attuali rate che sono intorno a 4%, 3,75-4%, ma sta a 0,5%. Quindi per la prima volta i mercati si aspettano rialzo dei tassi che ancora avviene da parte della Federal Reserve che avverrà probabilmente anche in Europa per quanto riguarda la BCE, ma non forte come il precedente. E questo è positivo perché significherebbe appunto che i dati sulla inflazione sono sotto controllo. I mercati quindi stanno scontando una politica restrittiva più tranquilla rispetto a quello che abbiamo visto finora. Però ancora una volta, vedete, resta un po' il dubbio perché lo 0,75 come rialzo dei tassi non è a 0 di probabilità, ma comunque intorno a un 30%. Questo significa che in linea di massima i mercati ancora sono un po' indecisi. Quindi il discorso di Powell di pomeriggio sulle questioni appunto dell'inflazione e dell'economia sarà molto rilevante. Quindi alle 19, a 30. Sennon che probabilmente che i dati fossero un po' positivi, qualcuno magari lo soveva già, è da un po' di giorni che i mercati si muovono in maniera estremamente positiva. Stiamo scommettendo sul famoso rally di Natale che al momento sta avvenendo sul settore delle criptovalute, però senza grandi movimenti perché comunque abbiamo visto sì salire i mercati in questa fase, ma non diciamo avere un boom boom importante. Però c'è da dire ragazzi che Bitcoin sta tentando proprio questa fase. Come nel mio ultimo video vi indicavo la possibilità che dalla minimo di lunedì scorso, 21-22 di novembre, si è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin e che quindi Bitcoin sta probabilmente in questa fase andando a realizzare un massimo che dovrebbe avvenire a momenti. Sono sincero perché ci sono anche poi altri dati che si possono analizzare. Ho fatto un video molto importante sull'Academy e poi da lì continuare magari eventualmente una fase che ci porterà al famoso rally di Natale. Ma dove possono arrivare se questo rally di Natale avverrà? Al momento sembra così, cioè i mercati sono proiettati verso i rally di Natale, non è soltanto Bitcoin che qualche candela verde sta tentando di farla dal precedente minimo, anche se comunque è molto basso, però siamo sempre a un torno al 10%, che in questo caso va più che bene vista l'attuale situazione ragazzi. Ma c'è anche altre criptovalute che per esempio hanno fatto molto bene, tra le quali anche Link che è stata molto, in questa prima parte molto gettonata, è anche una delle mie preferite che ci ha dato un rendimento intorno al 40% sui massimi, adesso sta un po' scendendo, ma è ancora, vedete, in barra di congestione, perché fin tanto che non sale sopra determinati livelli non può avere, diciamo, grandi spazi. Allora, cerchiamo di capire un po' di cose in questo video ragazzi, cioè dove è proiettata l'economia americana nei prossimi mesi e quello che potrebbe succedere proprio a Bitcoin in termini di analisi di medio-lungo periodo e non nel breve. Nel breve abbiamo visto il video di lunedì, andatevelo a vedere, anche se si vede un po' a scatti, speriamo che questo sia ok ragazzi, perché a volte il PC lagga senza motivo, quindi non so minimamente, mentre sto registrando se laggerà o meno. Nel frattempo ho dato anche un taglio ai miei capelli, qualcuno di voi mi ha detto hai fatto uno short levacento sul capello e così non assomiglio più a Sam Bankman Pride e quindi basta, fine dei giochi perché non mi potevo guardare allo specchio, mi prendevo schiappi solo. Vabbè, detto questo ragazzi, allora andiamo a fare un ragionamento di lungo periodo sui mercati, vi faccio vedere una serie di grafici dove può andare l'economia americana, abbiamo finito, ritorniamo a Indurran, non solo crypto ma anche il mercato classico sto parlando ragazzi, sì, no, quello che cambia, eccetera, andiamo. Allora, primo punto di natura un po' teorica ragazzi, dovete stare con me in questo video perché vi farò vedere una serie di grafici che sono aggiornamenti di grafici che abbiamo visto comunque nei video passati, ma sono molto rilevanti perché descrivono quelli che saranno i prossimi mesi proprio nel settore delle criptovalute ed è molto importante anche per il mercato old in generale. Allora, partiamo però invece dal concetto della macroeconomia e di quelli che ci sta descrivendo quelli che sono questi dati di natura macroeconomica che sono usciti anche oggi. Il PIL degli Stati Uniti è forte ragazzi e è ancora galoppa a rialzo, addirittura superiore alle attese, il PIL è del 2,9%, nonostante un rialzo dei tassi abnorme che non accadeva da 40 anni più o meno. Questa è una vittoria della politica monetaria da parte della Federal Reserve e da parte di Powell che da un certo punto di vista sta cercando di controllare quello che è l'inflazione e dall'altro punto di vista è riuscito a non far crashare il sistema dell'economia e a mandare in recessione il sistema americano. Poi ovvio, bisognerebbe leggere all'interno di questi dati, però noi ci fermiamo all'analisi di natura macro. Quindi da un certo punto di vista l'economia corre ancora al galoppo anche da questi dati, quelli sul petrolio appena usciti alle 4 e mezza, che indicano che le scorte di petrolio sono veramente down e quindi significa che c'è molto consumo di petrolio. Questo significa che il PIL ancora camminerà, perché anche il consumo del petrolio si trasferisce poi nel sistema economico come una maggiore produzione. Quindi c'è richiesta, c'è produzione. Quindi da un certo punto di vista l'economia ancora è surriscaldata e quindi i tassi di interesse continueranno a salire, però l'inflazione sembra andare verso una via del controllo. Perché vi dico questo ragazzi? Quindi il secondo punto importante da andare a ragionare. L'inflazione è un dato che si misura in base ai dati precedenti. Questo significa in maniera molto chiara che siccome i dati precedenti, ragazzi, degli ultimi mesi del 2022 sono tutti decrescenti, man mano che andremo ad aggiungere nuovi mesi, se i prezzi non saliranno in maniera abnorme, e non è così perché lo stiamo vedendo in maniera molto evidente, che i prezzi dei materiali primi mesi sono fermati, in pratica non hanno inflazione in questo momento, quello che succederà è che noi aggiungeremo in termini matematici al calcolo del tasso di inflazione dei numeri che sono più 01, meno 01, più 02, meno 02. Questo significa che sommando tutti i mesi noi avremo un dato medio che scende in maniera programmata e lineare. In pratica il tasso di inflazione, l'ICP e l'IPC che noi andremo a vedere su questi dati ogni volta che vi posto gli aggiornamenti, lo vedrete sempre in versione decrescente. Questo è normale che sia così perché l'inflazione si è fermata, quindi non è che noi torneremo a uno status quo dei pre-2022, noi resteremo a quelli attuali, ragazzi, e il tasso di inflazione sarà mantenuto il più possibile vicino al target del 2% da parte della Federal Reserve. Questo è quello che interessa alla Banca Centrale, quindi man mano che il tasso di inflazione continuerà a scendere, sarà così a meno di casi straordinari, quindi nuove guerre purtroppo, oppure questioni di natura straordinaria. Nei dati attuali, quello che vediamo, sarà un tasso di inflazione decrescente. Con un'economia che pompa alla grande, la Federal Reserve ha a mano libera di giocare alle sue carte di politica monetaria e questo significherà rialzi dei tassi che possono essere creati per cappare un eventuale sguizzo dei prezzi, magari successivamente, e rallentare poco poco il sistema economico senza mandarlo in recessione. Questo è molto interessante perché è una vittoria intanto di politica monetaria, una delle poche volte che vedo una cosa del genere, e quindi potrebbero i mercati beneficiare di questa cosa, ma quello che succederà secondo me nei mercati old sarà una situazione in cui non più tutti i mercati saliranno in maniera indiscriminata, ma le aziende che fanno più earnings, più utili di tutti, ritorneranno in una situazione di normalità e quindi avranno magari dei trend più favorevoli. Quindi rientriamo in un clima in pratica nel 2023-2024 probabilmente di normalità economica dopo un decennio, quindicennio circa, di espansione monetaria e di mercati totalmente dograti. Quindi si ritornerà a fare stock picking e si ritornerà a scegliere quelli che erano gli investimenti di gran lunga importanti, insomma a fare quello che è bello fare senza, diciamo, puntare a caso e poi tutto sale su. Questo è molto bello e secondo me resterà nei libri di storia economica una cosa del genere se appunto va come vi sto dicendo. Quindi questi sono i punti fondamentali. Lato crypto, che cosa potrebbe succedere? Lato bitcoin. Intanto vi mostro subito questo grafico, ragazzi, perché ancora una volta, io quando ne parliamo dobbiamo sempre distinguere lo short term negli investimenti, ragazzi, dal long term. Il long term non è quello di cui avete sentito parlare magari milioni di volte, cioè mettersi i tappi davanti agli occhi e far finta che i mercati non stiano crescendo. Non è così che si ragiona long term, si ragiona facendo le analisi di macroeconomia come quelle che abbiamo appena fatto e ragionando su dove stiamo andando. Quello che vi ho detto è un ragionamento long term. Ma ragionando di long term anche sui grafici possiamo vedere un po' quelli che sono i maxi cicli di cui parliamo un po' spesso, di cui uno è quello del ciclo del spread di bitcoin contro Nasdaq 100, cioè è un grafico che ci dà la forza relativa dei mercati cripto rispetto ai mercati tecnologici americani che sono il corrispettivo dell'hold market proprio delle criptovalute. Vi faccio vedere questo grafico che abbiamo visto decine di volte, ragazzi, eravamo qui quando dicevamo che se fossimo riusciti di andare in questa zona il mercato cripto avrebbe beneficiato e abbiamo crashato, abbiamo breccato questo triangolone e poi quello che si è visto lo avete anche intuito da soli. Allora qui abbiamo iniziato una nuova fase ciclica dopo aver completato una struttura di 490 giorni che conclude probabilmente la fase bearish di questo spread della forza relativa tra bitcoin e Nasdaq 100. Questo segnale è un segnale piccolino, un segnale short term, un segnale di brevissimo periodo, ma è un segnale positivo, ragazzi. È un segnale positivo che ovviamente non ha in questo momento nessun anato di conferma perché la vera ripartenza definitiva di una fase del genere la si avrebbe solo al di sopra di questo livello il che significa che bitcoin deve galoppare ma galoppare, galoppare, galoppare. Quindi come potete immaginare una cosa del genere non è tradabile semplicemente guardando una inversione vera di trend o è meglio è tradabile ma solo in una situazione di lunghissimo periodo perché qui ci sarebbe una discrepanza enorme. Quello che si può fare però è constatare che da questa zona probabilmente stiamo iniziando una nuova fase ciclica. Se questa è una nuova fase ciclica, ragazzi, probabilmente ci aspetta una piccola fase che potrebbe essere più rosea rispetto a quello che noi pensiamo perché un nuovo ciclo annuale di spread quindi di forza relativa di cripto verso Nasdaq indicherebbe che i mercati magari vanno a recuperare nei prossimi mesi anche quelli tecnologici e americani ma che bitcoin e cripto recupereranno di più rispetto a Nasdaq. Questo è normale perché hanno perso di più. Però semplicemente è un'altra indicazione che ci dà comunque un segnale che nei cicli di lungo periodo comunque qualcosina sta succedendo. Ora, ci servirà comunque avere delle conferme che avremo probabilmente verso la fine dell'anno perché serve questo mese per avere delle conferme ufficiali se effettivamente siamo in una fase nuova e che possiamo magari migliorare. Poi migliorare, salire un po', ragazzi. Poi da lì in poi cercheremo di capire dove arriviamo, se siamo su o giù. Ho fatto da poco una live con i ragazzi di Hard Rock Crypto mi hanno fatto una domanda che ritengo utile e gli ho detto mi spoilerate il video che devo rifare ve la ripropongo qui. La risposta, ragazzi, il prossimo eventuale ciclo dei mercati delle cripto può essere un ciclo di bull run diretto oppure no? Dal mio punto di vista, no. A prescindere dal fatto che moltissimi di voi si aspettano che i mercati vadano a scendere magari a fare nuovi minimi moltissimi si aspettano questo. Al di là del concetto del fare un nuovo minimo che il nuovo minimo significa anche un dollaro in meno il precedente, ragazzi. Non è detto, diciamo, meno 50 dall'ultimo minimo. Potrebbe essere che Bitcoin alla fine di questo nuovo ciclo va a segnare 15.300 dollari invece dell'ultimo minimo adesso non ricordo quant'è. E quindi, insomma, capite bene qual è e dove sto andando a parare. Cioè, il prossimo ciclo per me sarà un ciclo di assorbimento di tutta questa fase. Quindi non un ciclo di bull run ma neanche un ciclo bearish come quello che abbiamo visto. Ora, tutto può capitare, abbiamo visto decine di fallimenti quello che sta capitando nel settore delle cripto si chiama consolidamento non mi aspettavo minimamente quello di un exchange importante come BFTX mi aspettavo invece abbondantemente quello che invece è successo su alcuni protocolli cripto e secondo me lì non è neanche finita e quello che succede, per esempio, su Sepai come BlockFi ma, ragazzi, che BlockFi fosse, insomma, in semifallimento ormai è una cosa talmente scontata che il mercato non se ne è neanche accorto nel momento in cui è fallita perché in pratica l'altra non è già fallita, no? Quindi questo si sa però da quel punto di vista c'è la necessità di consolidamento l'exchange invece è un discorso differente che ha aperto, diciamo, molti interrogativi però al di là di questo contesto questo nuovo anno che verrà questo nuovo ciclo che probabilmente verrà ci darà una, dal mio punto di vista andamento di natura laterale che potrebbe essere laterale rialzista quindi con un massimo con un minimo vicino magari ai 15.000 e qualcosa o semplicemente un laterale ribassista che è quello più comune quello che magari molti di voi stanno andando a giocarsi come intendo sempre scherzosamente come possibilità vi faccio comprendere il concetto da un punto di vista di ciclicità di Bitcoin magari questa struttura se qui effettivamente inizia una nuova struttura ciclica farà magari grandi numeri magari si propone di fare una cosa del genere adesso sono stato un po' troppo lunghetto perché comunque una struttura del genere potrebbe chiudersi appunto alle soglie del 2024 circa quindi una roba del genere ragazzi non è configurabile come un ciclo ribassista è un laterale laterale che potrebbe definirsi poi ribassista o rialzista a seconda di come il mercato va a giocarsi la partita la probabilità che un nuovo ciclo di Bitcoin sia così per me è molto più alta rispetto a un ciclo a bull run o a un ciclo a bear market di nuovo meno 80 insomma ben intendo può succedere se succedere ne prenderemo atto però a quel punto dovremmo anche rivedere il fatto che è stato un grande fallimento un po' una serie di concetti però da sul grafico che vi ho fatto vedere quello di dello spread di Bitcoin contro Nasdaq si evince comunque che siamo nella fase iniziale di questa nuova struttura ciclica guardate bene che nell'ultimo settimana di novembre Bitcoin aveva perso rispetto a Nasdaq il 28% di forza relativa cioè una disastro praticamente vedete il peggiore la peggiore settimana dalla da che i ricordi in pratica qui non ce n'è neanche una forse è quella di di marzo neanche marzo 2020 vedete cioè per dirvi l'importanza del crash di FTX che ha avuto sul mercato di Bitcoin ragazzi qui non c'è praticamente mai una settimana peggiore di questa di novembre in termini di forza relativa tra Bitcoin e Nasdaq questo è molto significativo e dobbiamo prenderne atto pro e contro che succede che non succede vedremo quello che succederà questo è un grafico che terremo sempre sotto controllo secondo me è molto rilevante ed ha una grandissima importanza nella indicazione di una nuova fase ciclica più secondo me dei dati unicamente presenti sui cicli di Bitcoin di Bitcoin stesso infine ragazzi vediamo anche il grafico della Total Market Cap delle crypto che va a indicarci esattamente anche questo concetto che vi ho detto sulla spread Bitcoin contro Nasdaq anche nel caso della Total Market Cap della criptovalute ragazzi sembrerebbe proprio che sul minimo della scorsa settimana quello del 21 di la settimana del 21 di novembre sia andato a configurarsi la chiusura di un ciclo abbastanza visibile anche di natura ternaria che ragazzi a me non dispiacerebbe vi dico francamente perché vedere una struttura di questo tipo è interessante allora va valutata perché siamo appena a una eventuale partenza però vedete qui questa è una struttura abbastanza consona con 497 giorni che è un annuale lungo classico del settore delle cripto indicherebbe la fine del famoso ciclo della bolla delle criptovalute cioè quello da 1440 giorni che esattamente corrisponde all'ultimo minimo del bear market del 2018 che va a chiudersi proprio in questa zona qui solitamente sono più o meno 1440 giorni di distanza tra un minimo del bear market e un altro minimo successivo quindi anche questo grafico ci mostra una fase di lungo periodo che potrebbe indicarci una fase di riposo dei mercati ora qualora avvenisse noi lo vedremo allora se vi aspettate che da qui noi facciamo questo è proprio esattamente quello che vi ho spiegato non avverrà secondo me se vi aspettate che magari da qui noi dopo i primi giorni che dimostreranno che magari in questo eventuale fase si è raggiunto un minimo ancora sono solo due settimane di candeline verdi quindi non ha assolutamente senso ragionare su questa cosa se succede una roba del genere e poi vi aspettate che scendiamo così anche secondo me questo potrebbe non essere molto probabile e poi insomma si valuterà se avviene una cosa del genere sicuramente è il pallimento totale di molti progetti di molto di questo mercato ma secondo me non è così la soluzione più probabile è che se qui si è stato chiuso effettivamente questo ciclo il mercato inizierà a recuperare una parte di questa zona qui e poi inizierà magari a cincischiare in questa roba facendo proprio una struttura ciclica che magari potrebbe essere indicativa di un nuovo ciclo di riflessione magari così congegnato così costruito proprio lungo un annetto quindi che cosa ci aspetta nel futuro delle criptovalute probabilmente una fase di riflessione consolidamento post FTX e post fallimenti che hanno visto questo mercato proprio massacrato nella 2022 e in questo è un anno però molto importante perché probabilmente si consolideranno una serie di cose all'interno di questi movimenti che vi rifaccio magari vedere una cosa del genere comunque ci dà la possibilità di andare a individuare magari alcune cripto che saranno molto interessanti che magari potranno avere invece dei trend con un più 40 più 100% perché no che poi è quello che interessa alla fine dei giochi ragazzi cioè non andare a buttarci lì a sparare in mezzo al mucchio sapendo che tanto sale ogni cosa quindi burran alla cieca ma andare a individuare quello che effettivamente il mercato apprezza sui grafici guardando anche i progetti certo però con un occhio molto più mirato su quello che ci dice il grafico perché il mercato ha sempre ragione allora questi secondo me sono gli argomenti che ci porteremo nei prossimi mesi avanti ricordatevi questo grafico qui magari lo andiamo a riprendere se nelle prossime due tre settimane sarà confermato questo è un grafico settimanale di lungo periodo ragazzi quindi non lo non sarà utile valutarlo nell'arco di qualche giorno questa candela è molto rilevante quindi pensare che un mercato vada a recuperarla domani secondo me no questa candela ce la porteremo molto tempo dietro e probabilmente anche a distanza di qualche mese io mi aspetto più un atteggiamento di questo tipo piuttosto che un recupero av però già un atteggiamento di questo tipo ci dà delle indicazioni no cioè il fatto che in questa zona si sia chiuso un ciclo e se ne sia iniziato un altro se questa cosa avviene questa fase dei rally di Natale minuscola che rispetto al disastro degli altri giorni è veramente minuscola allora potrà avvenire anche dopo la prima settimana di dicembre perché nella prima settimana di dicembre 10 giorni un po' di debolezza è prevista ma di questo ne parliamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate come sempre aiutatemi con i pollici perché contenuti importanti dovete dare il vostro contributo ragazzi così girano il più possibile mi aiutate con youtube per il resto ci vediamo nel prossimo video ciao